Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio pubblicato da Officina Libraria dal titolo Donne al Potere, in Oriente e Occidente, tra tardo antico e medioevo di Maria Rosaria Barbera, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite, alla quale, come mi abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego Maria Rosaria, a lei. Allora, innanzitutto vi ringrazio molto per l'iniziativa che spero appunto serva a illuminare un periodo che tutto sommato siamo abituati a considerare il passaggio ai cosiddetti secoli bui, che tali non sono stati. E la motivazione che mi ha portato a scrivere questo libro è in parte voluta, in parte casuale. Avendo scritto poco prima un saggio sulle donne romane di età imperiale, di famiglia imperiale, esiliate a Bentotene, ho voluto proseguire, io lo chiamo un viaggio nel dolore, nel dolore di queste donne, la cui condizione nell'antichità, ma insomma fino a un periodo non tanto lontano dai nostri tempi, è stata una condizione di marginalità. Erano poco più che fattrici o comunque donne silenziose, donne prive di iniziativa e di diritti politici e giuridici. È capitato poi, soprattutto dall'età tardo-antica in poi, che un certo numero di queste donne legate alla famiglia imperiale abbiano avuto la possibilità di regnare. E quindi ho voluto, abbiamo d'accordo con l'editore appunto Fiuscina Librare, abbiamo voluto intitolare donne al potere, non donne di potere, perché è un locativo, donne che si sono trovate a esercitare il potere per una serie di motivi, primo tra i quali il dovere di trasmettere il sangue regale o imperiale. E il viaggio tra queste donne, che non è stato soltanto di dolore, ma anche di possibilità di comprenderne la capacità o l'incapacità in qualche caso, si è esteso da Oriente a Occidente in un periodo che appunto è considerato abbastanza virgolette buio, ma che è il periodo nel quale si gettano i semi e le radici di una nuova maniera di esercitare la regalità. Il ruolo delle regine o imperatrici o auguste si, diciamo, si consolida, si forma e si consolida lentamente, progressivamente, proprio in questo periodo. Il quale periodo va, diciamo, dal V secolo, quindi quando l'impero romano d'Occidente è sul punto di crollare, tutti ci ricordiamo la famosa data del 476, no? Una data poco più che convenzionale, ma da qualche parte bisogna pur partire, fino all'Oriente cosiddetto bizantino, quello nel quale si forma e si consolida quello che diventerà poi il glorioso impero bizantino e le varie modalità, diciamo, di esercitare il potere al quale più per caso spesso che per volontà queste donne si trovano a occupare e a esercitare. Le donne sono quattordici, è una galleria di donne che va dalla più antica, che è Galla Placidia, membro della storica casata di Teodosio, fino a Gundeperga, che è la figlia semisconosciuta di una grande donna, molto più conosciuta che Teodolinda. E nel libro ho cercato di rappresentare queste donne, diciamo, nelle loro varie sfumature, nelle loro varie modalità di interpretazione del potere, dal morente impero romano d'Occidente al nascente impero romano d'Oriente, passando anche poi per i bisigoti, i franchi, i lobobardi, gli ostrogoti, cioè quelli che si sono succeduti con tentativi più o meno maldestri o più o meno riusciti di imitare il modello di potere che l'impero romano aveva creato e diffuso. Quindi sono donne che hanno esercitato il potere in vario modo, chi a mio avviso, quasi per caso, come dalla Placidia, che si è fatta in qualche modo incantare da alcuni generali, definendo poi una politica che ho definito disastrosa perché in pratica ha aperto poi la strada alle invasioni vandale dell'Africa e alla vera fine poi dell'impero romano, fino a personaggi che hanno invece retto in maniera molto intensa e determinata il potere come, per esempio, la visigota Gosvinta e la figlia Brune Kilde che ho voluto affiancare in eterno alla sua rivale duellante, un po' come il film di Scott di parecchi anni fa, passando poi per modelli diversi che sono quelli di mediazione tra il modello virgolette barbarico, che meglio sarebbe definire germanico, e quello dell'impero romano sia d'Oriente che d'Occidente che appunto rappresenta una figura come Teodolinda. Ho voluto anche poi tracciare un capitolo sulle donne che hanno sfiorato il potere o perché lo hanno occupato per un periodo brevissimo legato appunto agli ultimi sussulti dell'impero romano d'Occidente, sia a quelle che lo hanno sfiorato perché l'impero, come nel caso di Anicia Giuliana, è sfuggito due volte al marito e al figlio di questa donna di nobilissima famiglia imperiale, rappresenta una linea ininterrotta in pratica dalla dinastia di Teodosio in poi che a sua volta era legata a quella di Costantino e quindi diciamo voluto affiancare anche questi due modelli di donne che hanno, volenti o nolenti, esercitato il potere, donne che avrebbero voluto o che lo hanno esercitato in maniera quasi fittizia, insomma assolutamente inconsistente in termini di durata, in termini di effetti e di significato. E quindi spero che questo libro possa servire un po' a capire come si determinano certi modelli, come il passaggio dal periodo imperiale al periodo dei cosiddetti secoli bui non marchi il passaggio a un periodo appunto già definito come buio ma che così non è e come si costruisce tassello dopo tassello il modello di queste donne al potere che diventano poi soltanto in tempi moderni le regine e le detentrici effettive di un potere che gli è consegnato per diritto perché lo esercitino e non soltanto per caso o per motivi di trasmissione del sangue dal momento che in antico e fino all'età moderna il concetto di trasmissione del sangue regale, sangue imperiale attraverso le madri e gli elementi femminili della dinastia è un elemento di grandissima forza che quasi compensa occasionalmente il fatto di essere donne e non uomini che sono quelli sì fatti per regnare. Io spero di aver dato un minimo di panoramica sono donne che hanno comunque esercitato il potere in maniera a volte simile a volte diversa qualcuna ha addirittura come Brune Childe, Fredegonda condotto gli eserciti altre lo hanno esercitato nel chiuso delle stanze imperiali, alcune sono profirogenite vale a dire nate come Ariadne, come Leonzio, da un padre già imperatore quindi nata nella stanza di corpore e quindi con aspirazioni ancora maggiori è più convinte di dover esercitare questo potere. Ho cercato di tracciare una storia dei vari modelli indicando poi luce e ombre di queste donne che sono molto diverse l'una dall'altra anche in accoppiata madri figlie come nel caso di Malasunta in Matasunta, Malasunta figlia di Teodorico che è stata una figura di eccellente governante costretta poi da un ambiente germanico assolutamente maschilista a condividere il potere con un cugino assolutamente indegno e da lui fatta strangolare marcando a questo punto il concetto che il potere è attributo essenzialmente maschile non saprei che cos'altro dire per invitare alla lettura mi sembrerebbe poco rispettoso nei confronti degli ascoltatori però insomma forse è un libro che qualche cosa spiega diciamo di quello che siamo diventati che società siamo e quale percorso accidentato e anche diverso secondo le latitudini e le longitudini sia stato avviato e percorso dalle donne Sì, l'argomento è veramente molto interessante anche perché è una prospettiva è una visuale particolare quella delle donne al potere ce n'è una che l'ha colpita più di tutte le altre, la sua Beniamina Allora la mia Beniamina è appunto Malasunta, questa donna eccezionale, polta che ha cercato di destreggiarsi ma con una mentalità veramente politica sulle rovine dell'impero romano d'Occidente guardando da una parte al mondo strogoto che le apparteneva ma soprattutto al mondo romano e intendo anche al mondo romano d'Oriente quello che servì a diventare bizantino una donna che ha lasciato un'eccellente raccolta di leggi che ha cercato di educare il figlio come lei stessa diceva come un vero principe romano ma che è stata letteralmente schiacciata da questa componente maschile perché in antico diversamente da quello che possiamo vedere oggi l'Oriente era più avanti rispetto alla concezione dell'autonomia femminile Bisanzio ha conosciuto nella sua lunga storia più di un'imperatrice che ha regnato per suo diritto col sigillo di imperatore dei Romei laddove il mondo che noi siamo abituati a chiamare romano barbarico in realtà romano germanico è un mondo assolutamente maschilista dove alle donne viene rimproverato e rinfacciato continuamente l'esercizio del potere ove per ragioni di varia natura e se siano destinate poi a esercitarlo quindi è un mondo assolutamente misogino che vede le donne come un accidente della storia da eliminare quanto prima il termine consorte per dire che oggi usiamo a livello maritale o simili è un termine che troviamo appunto nella storia di Amal Asunta rispetto al cugino che lei è in qualche modo costretta ad eleggere al potere insieme con lei come condivisore della sorte non si prevede che una donna eserciti il potere e determini la sorte sua e di un popolo da sola quindi sì Amal Asunta è una figura tragica perché devo dire i suoi più di nove anni di regno in funzione di reggente poi nell'ultimo anno per suo diritto insieme con il cugino sono stati anni in cui la buona politica di Pio De Rico che noi siamo abituati a considerare un regnante cattivo ma non è andata così l'Italia viveva un periodo invece di una certa floridezza le leggi erano compensate tra la componente romana e quella ostrogota diciamo in questo senso ecco lei ha proseguito un modello di buon governo e non è un caso che alla sua morte Giustiniano abbia colto l'occasione proprio per devastare tutto l'Occidente con la famosa guerra greco-gotica quella sì una guerra devastante una guerra che ha massacrato la componente italica che ha ridotto l'Italia veramente a un cumulo di macerie c'era un calcolo politico naturalmente e quindi appunto sì io trovo che questa figura dolente sia la più perfetta incarnazione della capacità di una donna di governare in quel periodo e della impossibilità contestuale di farlo per le ragioni di contesto ho detto prima appunto un contesto assolutamente ostile molto interessante quindi io invito tutti a correre in libreria e a comprare questo libro del quale mi dica no dicevo poi in qualche modo anche se è lontana forse dal nostro sentire anche questa figura di Brunechilde che è quella che poi dà in là con una serie di interpretazioni e distorsioni storiche e letterarie al personaggio di Brunilde no? è una donna visigota che conosce e applica la lezione della madre un'altra grandissima regnante eh Gosvinta e privata del marito dalle mene di una diciamo cognata rivale per tutta la vita eh lotta contro di lei contro i suoi figli con una fine peraltro miseranda ma è una donna che ha una forza una determinazione una sua autonoma capacità di decifrare gli eventi si rende protagonista di un infinito romanzo di cappa e spada lei e questa diciamo cognatastra cioè eh moglie del del fratellastro i re franchi avevano purtroppo l'abitudine di eh avere moglie e concubine eh i cui figli avevano pari diritti al trono questo per molto tempo soprattutto con la dinastia dei Merovingi ha creato una confusione infinita anche nella spartizione delle terre e in una serie di guerre con uno stop e go perpetuo e Brune Childe appunto ha fatto una fine miseranda che viene anche ricordata da Boccaccio eh in un insomma in un suo testo fondamentale che è appunto sulle donne illustri ha lasciato anche delle interpretazioni in stampe ovviamente molto più recenti qualcosa c'è ancora in Italia il libro anche delle illustrazioni che possono un po' come dire riempire gli occhi anche della storia di queste donne e e c'è da dire anche un'altra cosa che a modo loro tutte queste donne ed un po' è il periodo hanno comunque un contatto continuo con il mondo della Chiesa la Chiesa orientale la Chiesa occidentale con le eresie che pullulavano nel nel Mediterraneo in quel periodo e che hanno scatenato le antenate delle guerre di religione soprattutto fra arianesimo e cattolicesimo e ehm la la sorte che eh che noi leggiamo di queste donne è una sorta legata da una parte quindi le caratteristiche di queste donne sono legate da una parte al al gradimento diciamo della Chiesa regnante all'epoca quindi in Occidente il cattolicesimo in Oriente spesso anche l'arianesimo e soprattutto le donne non hanno fonti proprie non hanno quasi mai fino a tempi recenti avuto diritto a fonti proprie bisogna sempre capirne decifrarne la storia nelle pieghe della storiografia maschile la storia è stata scritta dagli uomini e gli uomini hanno avuto spesso una componente misogina che tende sempre a comprimere il ruolo di queste donne o a definirlo in termini non voglio dire di pettegolezzo ma è difficile che si capisca alla prima lettura che queste donne o parte di esse hanno anche una concezione una mentalità una capacità politica quindi ecco lo sforzo è stato soprattutto quello di leggere tra le pieghe di una storiografia maschile la verità vera per quello che si può capire oggi per quello che è l'interpretazione poi individuale ecco quindi donne che spesso se potenti vengono indiziate di licenziosità sessuale o di bramosia di potere insomma quindi bisogna fare un'operazione critica e esercitare appunto le capacità della critica per capire che cosa si nasconde dietro la fonte maschile se per caso si degna di parlare di queste donne non è un caso che non si sappia quasi mai quando sono nate piuttosto quando sono morte si hanno compiuto qualcosa di di marchevole appunto come regnare bene o male sia quindi un'ulteriore ragione per acquistare il volume per scoprire questa io ci ho provato io ho provato a dare una lettura che non fosse viziata dall'ottica maschile che è del tipo che ho detto poi certo le fonti sono di spessore diverso ci sono quelle buoniste quelle meno buoniste quelle che sono attente soprattutto al credo della regina o augusta o reggente di turno quelle che vanno un pochino più a fondo ecco quindi insomma sono donne che hanno lasciato comunque una traccia e ognuna di loro a modo suo ha costruito ha messo un tassello nella costruzione di questo modello della donna al potere quindi donne al potere in oriente e occidente tra tardo antico e medioevo pubblicato da ufficina libraria e scritto da Maria Rosaria Barbera che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite che io ringrazio tantissimo grazie a voi e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove trovate anche tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato finora grazie ancora grazie a tutti buona giornata fare vederti Diego scusa io ti chiamavo perché alla fine e disse l'una all'altra non possa altra tempesta che non volesse tessere per dirne filare turbi del vinco madre e non lo temperare che se lo viene forte la testa fa scaldare turbi del vinco madre e non lo temperare che se lo viene forte la testa fa scaldare grazie a tutti